Pronti per la quarta tier list di copertine di The Amazing Spider-Man Quarta, quarta puntata dove si comincia con quella che è l'era moderna, diciamo, di Spider-Man A me piace dividerlo in ere, in epoche Secondo me con la scorsa tier list abbiamo finito quella che io definisco come epoca classica Ve l'avevo detto Perché i primi 300 numeri comunque hanno queste copertine molto anni 60, 70 e primi 80 Che hanno quel sapore un po' ingenuo, tra virgolette, un po' più didascalico Adesso si comincia con l'arrivo di McFarlane Fra l'altro che abbiamo già visto nelle ultime cover, le ultime tre cover dell'altra tier list E arrivano poi gli anni 90, quindi si comincia a sperimentare un po' di più Ci saranno delle cover ancora dal sapore classico, ma comincia proprio un'era diversa Dopo il matrimonio tra Peter e Mary Jane Arriverà di tutto, da Venom al clone a Hobgoblin demoniaco Davvero, davvero di tutto e di più Ci saranno delle citazioni molto fighe Già potete vedere una serie di cover interessanti Ovviamente la tier list è divisa in tier appunto Quindi si va da D a S come voti Ma ci sono le nostre due extra categorie Che sono One More Day Cioè quelle robe veramente indecenti che vanno oltre la D E poi la categoria Spider-Man Cioè quelle che sono talmente belle da essere iconiche Come sempre vi ricordo che Comunque non si guarda davvero l'effettiva iconicità o importanza di una copertina Ma è più proprio un bella brutta diciamo Quindi tutto è abbastanza Verte abbastanza su quello Sull'aspetto delle cover Pronti? Pronti? Ovviamente ce le guardiamo a tutta pagina di qua Eccoci Ci eravamo lasciati con la copertina numero 300 Che a me non piaceva assolutamente Privia di quei 300 enormi rossi dietro Che trovo davvero brutti Ne abbiamo una versione tra virgolette ripulita Invece con il 301 Con il ritorno di Silver Sable Così ci viene detto Silver Sable arriverà un film della Sony Che ormai sta facendo film su chiunque di Spider-Man Copertina bianca simile a quella a sinistra Con Peter Spider-Man con il costume classico Perché Questa è l'epoca in cui Peter Ha scoperto Che il suo simbione Il costume nero era un simbionte Venom è già nato Ed MJ gli ha proprio detto Senti Peter Non mettere più il costume nero Ti prego Metti il costume rosso Lui per un po' alternerà ancora il costume nero Di stoffa Che gli aveva fatto costruire Per cucire la gatta nera E un pochino alternerà quello Quello rosso blu Per poi passare in realtà Direttamente al rosso blu per sempre Perché Venom spaventerà così tanto MJ Che vedere suo marito in giro con questo costume Forse non era il caso Partiamo abbastanza freddini Nel senso che comunque questa cover A me piace di più dell'altra Perché il 300 non c'è Però non è che parliamo della cover della vita Quindi Io gli metterei un B Così Un metà classifica Vedete B Metterei addirittura C Però mettiamogli B Perché comunque la posa mi piace È un McFarlane non esagerato Ottima la ragnatela Ricordiamo McFarlane è quello che ha inventato La ragnatela spaghetto La ragnatela a filo Perché prima si tendeva ancora a fare O dei semplici fili O comunque Fare la ragnatela a spruzzo Diciamo di Spider-Man Quindi l'idea di Creare questa cosa Lui la chiamava ragnatela spaghetto Quindi con un flusso E intorno un altro flusso Per creare la robustezza Diciamo per far capire Quanto è resistente Lui è stato un po' l'inventore di questo concetto Quindi un po' atto Gli ne diamo Sì lo ha sdoganato Diciamo che Lui ha inventato L'idea di ragnatela Appunto con un solo flusso E la cosa intorno Ecco Più che il filo in sé E soprattutto Il fatto che questa Si ingarbugliasse Cioè lui ha cominciato a disegnare Un Peter Uno Spider-Man Che volteggia E anche la ragnatela Anche un po' tutta intorno L'ha resa un po' più elastica Un po' meno Un po' meno banale Banale filo Diciamo di Da cui Penzolarsi Infatti tutti la chiamavano appunto La spaghetti web Di Di McFarlane McFarlane che diventa Il protagonista principale Per un po' Mentre tra l'altro Michelini David Michelini Scrive le storie Comunque aiutato da McFarlane Che un po' ci metteva del suo Infatti vediamo già il delirio Di Chaos in Kansas Con il costume di Peter Completamente distrutto E sembra quasi che Sia morto E dall'altra parte L'uomo sabbia Che torna L'uomo sabbia che torna Cattivo E affronta Affronta Peter Parker Anzi ma forse qua Era addirittura ancora buono E' stato il momento Branco selvaggio Questo Quindi con L'uomo sabbia Si vi sembra che collaboravano Con Spider-Man Poi tornerà cattivo Ma qui era ancora Era ancora buono Allora Molto La copertina questa qua Con il costume di Spider-Man Distrutto Molto Evocativa Mi piace Mi piace Tra l'altro Inizia anche un po' Il vizio Di colorare Spider-Man Di nero Invece che di blu Quindi di Di creare Quello che sembra Quasi un costume alternativo Ma in realtà Il solito Semplicemente Non veniva disegnato di blu Ma il colore Viene colorato Completamente di nero Mi piace Devo dire Questo Spider-Ei distrutto E mi piace tanto Anche la cover Con Silver Sable E L'uomo sabbia Nel secondo Si fendono personaggi Purtroppo Ma comunque bello Si Il problema di McFarlane Si parlava l'altra volta Dei volti Un po' Un po' Mostruosi Allora Io gli metterei Io le metterei Allora Questa la metterei In A Questa che è più generica In B Perché comunque Vabbè È una posa classica Lui che si lancia in avanti Nel frattempo Ringrazio Sly Panariello Non so se è parente Del vero Panariello Un misto fra Panariello E Sly Cooper Quindi meraviglia Grazie Sly Panariello Per il follow Nel frattempo Benvenuto a bordo Che tu veda questa live Indifferita O la prossima volta Che ci sentiremo In chat Quindi direi così Direi così Direi così Non più di B Perché comunque Ripeto Cover molto classica Posa molto classica Però molto figa Molto figa Non inizia male Il buon McFarlane Così come sono È abbastanza semplice Entrambe in realtà Queste altre due Mi piace di più la prima Vediamo Peter Spider-Man Lanciarsi a testa in giù Con la volpe Attenzione Quindi torna Uno dei tanti ladri Che dominano L'universo di Spider-Man Mi piace perché C'è questa strana visual C'è la volpe in basso E noi siamo quasi Noi vediamo proprio Quanto la volpe Si sente in qualche modo Schiacciata Forse dall'immagine Di Spider-Man Che arriva dall'alto E soprattutto Torna Torna il ragno Esatto Le pose di McFarlane Come dice Iachi Sono proprio da ragno Torna quel ragno Un po' alla Ditko Quindi c'è lui Racchiuso Attaccato Rannicchiato Che scende giù Una proprio come un ragno Mi piace veramente tanto E anche questa qua Con Credo Scammer Credo Scammer E' un C Qual era il numero Qual era il numero Ce l'ho pure La di fianco In In versione repro Quindi lo prendo Action comic Ah no Il numero 1 Era Batman Che era su Detective Comics San cavolo Action comic numero 1 Qua ce l'abbiamo in versione repro Quindi ve lo mostro Assolutamente In tutta la sua gloria Action comic Ovviamente riprodotto Non è mai l'originale Ma Chi se ne frega I numeri storici Quelli mega vecchi A me riprodotti Vanno benissimo Primo numero In cui apparve Superman Prima apparizione di Superman E qua abbiamo Spidey Che mima Mima insomma Questa posa No Non è l'originale Non è l'originale E forse lo sto dicendo Perché altrimenti Mi arrivano i ladri In casa No Seriamente Non è l'originale Quindi ladri Non venite Molto figa È bellissima Però Non la metterei Troppo in alto Cioè mi piace l'idea Premio l'idea Nessuno forse L'aveva ancora fatto All'epoca Può essere Non ricordo Molte parodie Magari adesso Mettetemi la lista Sotto nei commenti Se state vedendo Questo video Indifferita Con no Non è vero Apparso in questi Numeri Blah 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 Ma L'idea a me piace L'idea a me piace Quindi Io gli do A Non di più Perché comunque Non è un'idea Non sua Però A Gliela do Perché mi piace Spidey che rifà Superman In Così In E solleva la macchina Nel campus La macchina della polizia Davvero come Superman Sollevava la macchina Nel Nel numero uno E poi abbiamo Questa versione Molto inquietante È una copertina Che non mi piace Una copertina che non mi piace Non è brutta Mi piace l'idea Del camaleonte From Chicago Comes the Chameleon Che insomma Prende l'identità Di Peter Di Spider-Man Quindi le ragnatele Che iniziano a formarsi Sul suo volto Ma lui sotto È il camaleonte Mi piace Anche qua L'idea Però boh Non mi ha mai Non mi ha mai Sconfianferato troppo Cioè questa Capisco l'idea Di mostrare Il camaleonte Che si forma Ma boh Poteva farlo meglio Mettiamola così Però gli diamo C Comunque Sono quelle belle Come quella di prima Ma realizzate così così Non me la sento Di andare più giù Stiamo potendo essere curioso Di vederla fatta dal Doc Probabilmente Il One More Day Finirebbe Lo spazio Esatto Il caro Alessandro Lui butterebbe tutto Lo chiamerò Prima o poi Per fare una chiacchierata Parleremo anche di questo Del suo odio Verso McFarlane Neanch'io sono Un grande stimatore Però come dicevi tu Secondo me Sulle cover Lui se l'ha Sempre cavata Benissimo Benissimo Come ad esempio Who kidnapped Mary Jane Chi ha rapito MJ E Questo Spidey Cattivissimo Veramente Incazzato nero Con Ricurvo Sotto la luna In un cimitero E tra l'altro Con Questi occhi Veramente Spiritati Che sono i suoi occhi Base Ma qua sembrano Spiritati Veramente arrabbiato Animalesco Cioè siamo Dalle parti Di Davvero Di L'ultima caccia Di Kraven Veramente Veramente Meraviglioso Questa è veramente Veramente bella Numero 308 Un po' più Banalotta Infatti mi sa che la butto Addirittura In D Non One More Day Ma in D Quella con Sticks e Stone Questa è l'epoca di Inferno Siamo in zona Inferno Cioè quel momento in cui L'Inferno si è fuso con la Terra Una saga degli X-Men Che ha colpito Però tutte le testate All'epoca della Marvel E mi ricordo che lei Era stata rapita E c'erano Sticks e Stone Che sono questi due Nemici appunto Introdotti nell'epoca McFarlane Uno grosso Incazzato Stone L'altro Sticks Che se non sbaglio Domina la paura Una cosa del genere Comunque magrolino Ossuto E c'era questo ricco Miliardario Che si era innamorato Di MJ La invitava a cena Mi ricordo Una storia abbastanza delirante Come molte del periodo Micelini Io metto quindi Questa in S Tranquillamente Anzi Ho quasi Il dubbio Di metterla in Spider-Man Vediamo Perché veramente Il ragno umano È una delle cose Che mi piace di più Cioè quando Spider-Man davvero Regredisce Quasi a ragno Incazzato Questa la mettiamo in D Perché sembra un po' Un poster Da Arabella L'angelo nero Quei film italiani Un po' thriller Un po' erotici Degli anni 80 Con questi capelloni Enormi dietro E poi Sticks e Stone Ingialliti E Spidey Attaccato Siamo un po' Una copertina Patchwork Non mi piace Molto E poi Come dico sempre Qualcosa in D Doremo Pur far finire Quindi La mandiamo Giù La mandiamo giù Invece no 308 Al bacio Veramente Questo McFarlane Quando deve fare Spider-Man Incazzato E Animalesco È il top Allora Qui torna L'aver l'assassina Un nemico Storico Di Spidey L'aver l'assassina Devo dire Un po' Generica Non mi piace Troppo la posa Di Spidey Con quel piede Lanciato Carina La ragnatela Intrappolata Intrappolante Ingarbugliata Però no No Non Non la trovo Bellissima Non siamo Dalle parti D Ma forse Della C Della C Quasi D Molto Molto Figa Invece Quella di Mysterio Che si Un'asse lo becca Il ritorno Dell'uomo Chiamato Mysterio Tra l'altro Con Questa specie Di Contraltare Di Mysterio Che sembra più Spaventato lui Di Spider Spider-Man Di questo Spider-Man Incazzato Probabilmente Previa di MJ E che si riflette Nel suo Casco Veramente Veramente Figa Veramente Veramente Figa Anzi Sapete che vi dico Che io Faccio il passaggio Di Spider-Man Cioè lui proprio E Do a S A Mysterio Non me ne pento È vero Mysterio è uno Dei miei Amici preferiti Un po' Di cuore Parla Da parte mia Però Questa resa Mi piace Tanto Cioè le copertine Riflesse Io le adoro E questa roba Di Spider-Man Che fa più paura Di lui A Mysterio Che il contrario Mi piace davvero Tanto La Verla La Verla La Verla Sì Gli diamo una C Non è una D Ma gli diamo una C Però S Perché lì proprio è McFarlane Che fa McFarlane E lo fa bene Promosso Super promosso Un po' meno promossa Secondo me Amazing Spider-Man 312 Green Goblin Contro Hobgoblin Figo anche qua L'idea Cioè vediamo Appunto Spider-Man in basso Quasi Quasi Buttato fuori Dallo scontro Del tipo Non ce ne frega niente Di te E Green Goblin Contro Hobby Troppo piena Esatto Un po' troppo piena Green Goblin Qui era Harry Osborn Credo non ci siano dubbi Hobgoblin Era nella sua versione Di secondo Hobgoblin E Versione Demogoblin Cioè O meno Non ancora Demogoblin Però è stato il momento In cui c'è stato Il patto di Jason Machendale Con un demone Nastirt Se non sbaglio Era il demone In cui aveva fatto Il patto Che poi si scinderà Lui andrà avanti Come secondo Hobgoblin Da solo E il demone Diventerà Demogoblin Quindi il goblin Demoniaco Infatti vedete che Anche in basso Nel riquadrino C'è lui che ride Diabolicamente Ripeto Figa l'idea Di farli scontrare Lui è bravo A disegnare i goblin Secondo me Li fa davvero inquietanti Ma la copertina È troppo piena E secondo me Non è gestita benissimo A livello di spazi Molto più figa È quella di Lizard Invece Che sta strangolando Spider-Man Che gli sta strappando La maschera C'ha pure un dito Smonco E devo dire McFarlane Per me è uno dei migliori A disegnare Lizard Sarà che lui è bravo Con gli animali Con i mostri Sarà che sembra Un demone violator Del suo spawn Che deve ancora arrivare Qua all'epoca Ma io questo Lizard Veramente lo adoro E Lizard Non è facile da disegnare A volte lo disegnero Troppo dinosauresco A volte troppo lucertola Ma McFarlane Lo disegnava davvero Mostruoso E ci sta Perché Kurt Connors Che impazzisce Diventa una lucertola Incazzata Che odia gli umani Bene così Quindi gli diamo In realtà Allora Una B Se la piglia Comunque Secondo me Goblin Perché non è Brutta Brutta Non è Malfatta Mettiamola così Fatta peggio Di quelle tre La preferisco Comunque Lizard Che è Incazzato Ma io una S Gliela do Sapete che c'è Nemici Classici Lizard E Mysterio Disegnati Secondo me Da Dio Perché qua Veramente bello Anche Spidey C'è Questo I dettagli del costume Il sangue qua sotto Cioè mi piace C'è proprio l'idea di Addio Spider-Man Perché Lizard Ti sta mangiando No Mi spiace Ragazzi Abbiamo il nostro Forse unico One More Day Perché Se è carino E simpatico Lo Spidey Con il cappello Da Babbo Natale Là in alto Nel corner box Odio quel Babbo Natale Che veramente È il classico Babbo Natale Deforme Dalla McFarlane Non quello che piace A me L'AMJ Credo Boh Spider-Man viene Calciato Sì esatto Evicted Sfrattati Sfrattati Calciato via Quello non è Quello non è Brock Sua Arriva Sfrattati Sfrattati Che sembra Che sembra Forse andarsene Da Venom In realtà Ma vuole tornare Su Peter Colui che lo ha Cacciato la prima volta Ricordiamo Per i super mega neofiti Che ovviamente Venom nasce da Da un simbionte Da cui Spidey si libera E va su Eddie Brock Che odia Peter Parker Quindi odio del simbionte Verso Peter e Spider-Man Odio di Eddie Brock Per Spider-Man In qualche modo Ma soprattutto Per Peter Parker Si fondono E fanno Venom Quindi S Per il simbionte Anche qua In qualche modo Nemici classici Perché Venom All'epoca era nuovo Però oggi Ci suona come classico Quindi Di queste avevo Le cartoline Che figata Che figata Le cartoline Regalate Spesso con i numeri Di Spidey Dell'uomo ragno Allora Qui abbiamo Uno scorpione Scorpion Con questo Diciamo Nuovo Costume Credo l'avesse Già Indossato Però Con questo Uncino Così proteso La coda Così lunga E soprattutto Gli occhi Solo gli occhi Fuori Una roba Molto Molto Scorpion E molto McFarlane Nella sua Seconda apparizione Con Rhino Rhino Con il suo costume Penso il peggiore Che abbia mai indossato Anche se Aveva il suo fascino Quelli di Di un'armatura Ma insomma Con Whiplash Tra l'altro Quello mi sembra Whiplash Sì Una delle sue versioni Classiche Quindi Frusta Nemico di Iron Man Allora Scorpione Scorpione Sì Io S Gliela do Perché qua Siamo davvero Dalle parti Di sinistri 6 Quindi Cover L'altra Un po' più generica Si piglia una B Eh B Anzi S S Magari no Diamo gli A Perché secondo me È meno Meno di rompente Di quelle che abbiamo messo prima Molto classica Quindi non c'è quella Quella ricerca Che magari ha fatto Nelle altre cover L'altra B Molto Molto classica Peter Spider-Man In mezzo In balia dei nemici Loro due che si stanno scontrando Lui che dice Oh cazzo Adesso Si ammazzano pure tra di loro Insomma Tranquilla Tranquilla Non brutta Però una B Standard Gliela diamo Eh Devo dire Queste non è che mi piacciono Moltissimo Paladin Paladin Paladino Con Questa era la lunga saga Assieme a Silver Sable Devo dire che Il muro Lui dietro Io metterei Quasi Io Quasi le metterei Tutte e due In C Perché secondo me B non se la meritano Io le butto Tutte e due In C Ditemi Poi se per voi Non va bene Ma Io le vedo Molto ciose Come copertine Sì E ci sta Ci sta Abbastanza generiche Poi ecco C'era questa cosa Come dicevamo Ormai Siamo nell'epoca Dove le storie Non potevano più durare 20 pagine Dovano esserci le saghe Di due Tre Quattro parti McFarlane aveva un po' Il vizio di Finchè restava in una saga Di disegnare sempre I soliti soggetti Quindi Molte cover Sembrano quasi Ripetersi a volte E Credo Stiano bene anche Spesso Nella stessa Nella stessa Tier Perché se dici Questa l'ho messa in C L'altra pure La devo mettere in C Anche questa Devo dire Che non Non mi fa impazzire Cioè perché E Lui Che solleva Gli uomini Del Di Silver Sable Credo Eh Si incaria Comunque Aggrovigliati Nella ragnatela La posa Non è malaccio Però Così così C'ha pure davanti Una roba davanti Alla gamba Che non A sinistra Vedete Cioè sulla destra Nella copertina Eh Non lo so Bella Ma appunto Anche questa Un po' Un po' Sul generico Quindi io gli darei Tranquillamente Un C In C Vano sempre quelle Un po' medie Molto figo Il Capitano America Qua di McFarlane Che rende bene Tessuti E muscoli Del Capitano Un po' Meglio Infatti la metterei Un Un passo Più sopra Mi piace Che di fatto Cap sia Davanti A un muro E Spidey Stia scendendo Appeso al muro Cioè questa dovrebbe essere In teoria la prospettiva Un po' strana Devo dire Perché sembrava quasi per terra Spide all'inizio Ma Cap non potrebbe essere In quella posa lì Comunque Biglia la diamo Biglia la diamo Anche perché Cap c'è Cap è È il dio sceso in terra È il re degli Avengers Lo amo Quindi Dobbiamo dargli un po' Di credito Continua appunto The Assassination Plot Quella Complotto per un omicidio Ricordo che Star Comics La pubblicò Su un unico volumetto Devo dire Non male questa Questa si piglia Una A Le mani di Spidey Pronte a lanciare La ragnatela Entrambe così Quindi in versione Versione Lancia ragnatele E Sebritut Arrabbiato Veramente come le bestie Bestia quale lui Anche Mi piace Mi piace Fa un po' Quella roba Alla misterio Cioè mani in primo piano Qualcuno Spaventato Questa volta Spaventato È probabilmente Spider-Man Dall'altra parte Che si trova Sebritut davanti Però mi piace Mi piace Non esagerata Ma una aglie La voglio dare Una aglie La voglio dare Capitolo finale Teschio rosso Secondo teschio rosso Tra l'altro credo O non ricordo Se fosse il primo Il secondo teschio rosso Capitano America Ovviamente Non c'è L'America sembra morta Finita Ma sappiamo Che non Non sarà così Non lo so Non mi ha mai Fatto impazzire Questa C'è lui In questa versione Ridotta Spider-Man Della Casa Bianca Con in mano La bandiera Che brucia Bandiera Che però Ha anche il simbolo Di un ragno Non lo so Un po' confusionale Il teschio rosso Che fuma dietro Sbuffa il fumo Che non copre benissimo Non lo so Io questa la metterei La metterei Io la metto in D Ragazzi Forse Troppo esagerato Però Però Roberto Iovino Bentornato 7.8 All'All 2 Sì 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 Quello è stato il mio voto All'All 2 Trovate la mia recensione Su IGN Italia All'All 2 Meno che Il primo Perché il primo L'ho trovato più dirompente Più convincente Come formula Più spontaneo Qua ci sono dei numeri Comici molto grandiosi Parliamo di Ad esempio Corrado Guzzanti Ma Guzzanti fa dei numeri Bellissimi Ma poi un po' Mi si spegne Tra un numero e l'altro Invece Nel primo Era davvero un delirio Continuo Con Matano Con Elio Quindi L'ho premiato di più Che non premio tantissimo Invece È questa prima cover Con Spidey Che viene Così Martoriato Dalle macerie In una questa posa Dove si difende Però Non mi piace Tantissimo Uno Spidey Un po' strano Sì qua McFarlane Ci ha dato un po' Dentro Però Non è neanche Il suo Spidey Più Ah no Attenzione Ecco perché Non è McFarlane Stiamo facendo una super cappellata Colleen Doran E quella dopo È invece di Eric Larson Quindi si comincia con Larson Quindi abbiamo già detto Addio alle copertine di McFarlane Vabbè Poi tornerà Immagino Colleen Doran Vabbè Allora siamo davanti Proprio A una cover Un po' Mestierantistica Si vede che è una di quelle Cover riempitivo Scusate sbircio Esatto Poi McFarlane Larsen Ok Poi si prosegue con I due più importanti Copertinisti del periodo Io con questa cover Andrei tranquillamente In D In realtà Metterei magari in C Una più generica cover Con Magneto Che spara Il suo magnetismo Tra l'altro Secondo me Nemmeno benissimo Quindi Buono Ma Poteva fare di meglio Signore Eric Larson Cosa che poi farà Senza problemi Quindi una C Tranquilla Attenzione Attenzione Abbiamo McFarlane Che fa Scontrare Spider-Man Con Hulk grigio Joe Fixit Bellissimo Il fatto che Il logo Amazing Spider-Man Crolli di fatto Sul gigante E il pugno Che prende Da Spider-Man E mi piace Davvero tantissimo Anche Stavolta Eric Larson Leggo Con la Trisentinella Che tenta Di schiacciare Spider-Man Mi piace Anche Il fatto che lui Tenti di tenere Il peso Con la schiena E' ben resa Questa cosa Sono 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 due cover Molto fighe Secondo me Io darei Una A Perché S Secondo me No E una B A lui Che deve Pararsi Mi piace Poi vediamo Nel caso le spostiamo Molto figo Il fatto appunto Che la testata Venga distrutta Però S Non me la sento Quelle là erano più Mi piace meno La La posa Cioè Hulk qua Sta volando Però Il piede Sembra che sia appoggiato Vedete E Spidey Sembra che arriva Storto di fatto Perché non potrebbe essere In quella posizione Se è appoggiato Se no Invece sta semplicemente Volando Sopra il pugno E Secondo me Le gambe Potrei disegnarle In maniera un po' diversa Non sembrano troppo A penzoloni Ecco Sembrano questioni Di lana caprina Però 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 Molto più generica Questa cover Con Spidey E il punitore Devo dire Una posa Del buon Eric Larson Arriva anche Terry Austin Attenzione Non mi cominciano a diventare tanti Devo dire Qua Non mi piace tantissimo Questa posa Di Spidey Abbastanza banali L'altra si salta Spidey spara tutto Cioè Il punitore spara tutto Mentre viene strozzato Da dietro Io le butto in un C Non sono brutte Le butto nel C Più generico possibile Mentre magari In B Potrei mettere Venom Che salta E dice You're gonna die Molto seria animata Devo dire Anni 90 Questa scena Questo è anche il modo Di disegnarlo Un po' confusionaria Per me Non bellissima La seconda Con Stix Stone E anche Venom Numero 333 Tutte e due Di Eric Larson Io metterei Venom Abbastanza classico In B Non so quanti soldi Ci ho buttato Con le action figure Di McFarlane Esatto McFarlane Toys Che poi ha cominciato A fare di tutto Non solo Marvelofili Questa gli diamo una C Anzi no Io gli do D Esagero Perché mi dà fastidio Quella posa di Venom Quelle gambine Che dovrebbe essere in prospettiva Ma no Spidey che dà un calcio Ma non si capisce nemmeno Al povero Stix No Mi ha detto Mi dà poco Mi dà poco Quindi In basso In basso Saga dei sinistri 6 Tornano i sinistri 6 Che poi il Doc Invece Larsen Sì sì Ma anch'io lo preferisco Eric Larsen Il suo Venom Poi è uno dei migliori Per me Dopo lo vedremo In copertina Anche se sì Siamo abbastanza simili In effetti Non li definirei All'antitesi Allora Qui abbiamo Electro Electro Che si lancia In una maniera Devo dire Un po' bruttina Abbiamo Una bellissima silhouette Che ti fa dire Ma chi sarà Quello lì Ma ovviamente È Dottor Octopus Infatti Vediamo che iniziano A formarsi I sinistri 6 Nella seconda storia 1 2 3 4 5 Ecco Shocker Che attacca Però Non lo so Copertina Un po' Un po' Così così Non mi Non mi fa Non mi fa Impazzire Allora Mettiamo Questa In B E I sinistri E lui che è In C Peggio no Perché non voglio essere cattivo Poi c'è anche il mio shockerino Però in C Abbastanza generica Abbastanza Roberto Che action figure hai Di McFarlane Fra l'altro Ti ricordi Quali sono i modelli Quali sono i personaggi Qualcuno muore Qualcuno muore Qualcuno di non così importante Ti dirò Spidey In una copertina Secondo me Abbastanza bruttina Perché Spidey Sta saltando Con le gambe rannicchiate Perché sembra appoggiato a qualcosa Ma visto che gli altri Sfrecciano dietro di lui Non lo so Lo vedo un po' Bob Bob Weissach Credo abbia Disegnato E Clarsen Poi inchiostrato Quindi non è colpa Del buon Larsen Non lo so Io Questa la metto in D Questa è veramente bruttarella Non è One More Day C'è la rinatalizia Che se la merita è come Mentre invece Metterei in Sai cosa dico? In A Sarò pazzo Ma io questa la metto in A Spidey Piccolino Ne ho schiacciato Dai sinistri 6 Rinati Tra l'altro Con Mob Goblin Che ci entra a fare parte E mi piace Lui bullizzato Un po' dai nemici Il ghigno di Dottor Octopus I denti Così che stridano Da risata Dell'uomo sabbia Quasi tutte le serie Dei draghi Ah ok Ok Vabbè con McFarlane Si spende comunque Tantissimo ovunque Io questa la metto Tranquillamente In S Perché di sì E quella lì Col padre Che scoppia Ah no L'abbiamo già messa Sì invece in D Ok Conchine del Walt Esatto Walter Simonson Attenzione The Battle Royale Tutti che si menano I sinistri 6 Che si menano da soli Come sempre succede Anzi Forse attaccano Spidey Tutti assieme Non più uno Alla volta Come era la loro usanza Bellissima La cover invece di Octopus Che dice Spider-Man muori 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 Infatti quella La metto subito Tac Dai 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 La metto subito In S Magari no Però Ah Se lo piglia E Questa specie di Chaos Con tutti Che si affrontano Lui che dà il calcio Spidey risponde Con un pugno Vabbè Questa Secondo me La possiamo mettere In D Perché è più brutta Di quella C Senz'altro Senz'altro 340 341 Prima brutta Generica D Seconda Molto figa La posa di Spidey Che ha perso i poteri Non si accorge Che dietro di lui È arrivato Tarantula Forse il nuovo Tarantula Pronto a menarlo Allora Io questa qua Veramente brutta Con gli omini Che saltano De Femme Fatale Si chiamavano Le Femme Fatale Le mettiamo in D Spidey senza poteri Io lo metto In C Tarantula Ha sempre piaciuto Moltissimo Il costume Vero? Molto figo Molto figo Con la bandanina E Blu Qua ovviamente è nera Perché anche il costume Di Spidey Vedete È colorato di nero Così per un motivo Di colore Ritorna la gatta nera Ritorna Scorpion In questa copertina Che poi prosegue In qualche modo Nell'altra Dove Le Femme Fatale Sembrano scontrarsi Contro Morbius Verrebbe Morbius Scontrarsi contro Morbius Voleva dire Scontrarsi contro Il Il Lo Scorpion Ovviamente Non so perché ho detto Morbius Non lo so Due cover Abbastanza Abbastanza Generiche Diamogli Una C Eh Ci può stare Perché di più Di più Non è brutta Eh Quella della gatta nera Dello Scorpione Magari Facciamo così Metto B Perché mi sento generoso Sto sempre Sembro cattivo Col povero Scorpione La metto in B Quella dello Scorpione Che Perché ha una sua Un suo perché Cioè comunque c'è In caduta libera Spidey Mi piace Con tutto il costume distrutto Che dice aiuto Tutto un bello così C'è il colpo Di Scorpione Eh Dai B B Siamo un po' più generosi Proseguiamo Proseguiamo E Arriviamo a Cardiac Attenzione Nemico Ma poi amico Perché Questo Super cattivo Con potere In questa armatura Che tra l'altro Era basata Proprio sulle pulsioni Lui aveva problemi di cuore Se non sbaglio Poi era un medico Che poi è diventato buono In realtà Cioè Spidey Mi ha fatto capire Di restare buono Devo dire Che qua La posa di Spidey Che dà un pugno Sopra la sua gamba A me sembra davvero esagerata Non mi piace troppo Rino Cardiac Così così Più carina Quella a destra Sicuramente Anche se è un po' estrema Qua si McFarlane no Però Larsen Ci ha dato dentro anche lui Quelle pose ragnesche Io metterei D Questa E C Questa Mentre metterei Io ve lo dico Addirittura Spider-Man Questa cover Di Larsen Venom Dentuto E linguacciuto Quindi nuova Diciamo evoluzione Di Venom Che prima era davvero Solo un Uno Spidey Vestito di Di nero Come il suo simbionte Però più Muscoloso E L'essere o non essere Subito dopo Quindi io metterei In Spider-Man Questa E S L'essere o non essere Perché Mi Fa Impazzire To be or not to be Alas Poor Spider-Man I killed him well Ok va bene Venom Convinto tu Comunque grande 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 Larsen Secondo me è uno dei migliori Disegnatori Di Venom Di Venom E queste cover lo dimostrano Perché E' davvero davvero figo Under the leadership Of the Sandman Continua la Escalation Di bravura Dell'uomo sabbia Che guida Vendicatori E Spidey E chi che sia Con loro All'attacco Devo dire Non al top E secondo me Nemmeno troppo Al top Quella dopo Anche se immagino Prevede il registro Di Il ritorno Di Dottor Destino Io queste le metterei In C Senza infamia Senza lode Entrambe In C Leggo un sacco Benvenuto Torni Aurora dal cinema Immagino a vedere The Batman Io The Batman purtroppo Lo vedrò Settimana prossima Cioè questa settimana Però sabato Quindi sarà dura Poi Poi magari ne chiacchiereremo Dai Per adesso Devo aspettare Nonostante abbia grandi aspettative Anche perché Pare piaciuto davvero a tutti Quindi vedremo Vedremo Tra l'altro Abbiamo finito le prime Vabbè quasi 50 Seconda tranche Di immagini Ah volevi mai visto Ennio Perché lo toglievano Ok Vabbè Allora mi sento meno solo Mi sento meno solo A meno che poi non l'avevi già visto Quindi magari seconda visione Allora Doom Qua si mostra Allora Doom qua si mostra 350 Non è più un'ombra Che incombe La strana storia di Pattinson Sono ampio L'iterato Mi sono incazzato Ma nei prossimi giorni Ormai abbiamo perso il day one Ok ok Va bene Io andrò sabato Vediamo Se riesce a precedermi Di un po' Leggo un sacco Allora Non mi fanno impazzire queste cover Quindi io Metterei D addirittura Destino E C Questa qua Della trisentinella Mentre invece Nova Allora molto bella Quella Con Spidey Numero 353 Con Spidey Attaccato al muro E Dark Oak E Punitore Sopra di lui Molto molto figa Quella gli diamo un bel A Non ho problemi A Dagli A Invece l'ho dato Mi sa Quella Sbagliata Dato a Nova E Spidey Nova e Spidey Un generico C Generico C Questa invece Secondo me Merita proprio La Super generica Anche questa C Ecco Night Thrasher Tra l'altro Che poi finirà In New Warriors E qua Anche Moon Knight Sulla destra Vedete l'altra copertina Con Punisher Davanti Spidey Che sta arrivando Dietro Night Thrasher E Sulla destra E Moon Knight Sulla sinistra Questi mi sono Tutte familiari I tempi Comprovo gli originali E certo La D La seconda Bruttina Allora Sì Perché sembra che Non siano appoggiati A niente Lo stesso Moon Knight Mi sembra Mi sembra strano Proprio così Avanescente C'è una parte dietro Che non si capisce Se è una Pose appiccicatrice Sì infatti Perlomeno è più studiata Quella là di Quella di prima Quindi questa La mettiamo in D L'altra Essendo un po' più studiata Ma vicino alle sentinelle Si piglia un C Senza alcun Problema Ecco Copertina reiterata Stavolta un po' meglio Molto figa anche quella destra Io metterei B Questa Perché mi piace il cielo Come viene evocato E questa Invece la teniamo in C So che sembra un po' cattivo Ma Bisogna eh Periodo che preferisco Meno questo Eh Molti Qui diciamo che il personaggio Si stava un po' perdendo Gente come Michelini McFarlane Le aveva dato Nuova linfa vitale Ma si stava un po' perdendo Erano ancora gli anni Un po' di buio Che poi hanno portato Alla saga del clone Che tra poco vedremo Perché qualcuno ha detto Vabbè ragazzi È tempo di Di darci dentro Bruttarella anche questa Secondo me Dove Peter è Troppo muscoloso Anche se arriva Mark Bugley Alle copertine Figo Ma non troppo Anche lì L'attacco di cardiac Perché più che evitare Sembra che lui Sembra davvero Spide lì Passi a A caso Lì abbandonai Esatto In quel momento Quindi c'è chi Non ha resistito Oltre Io Le metto D E questa La metto C Così Per esagerare Poi abbiamo Vabbè Ancora cardiac E attenzione La genesi selvaggia Di Carnage Allora Su cardiac Menato Talmente generica Talmente banale Che si piglia Un D Mentre invece Per rinascita Insomma per rinascita Una A È duopo Forse addirittura Amazing Spider-Man Anzi Senza forse Amazing Spider-Man Perché ragazzi Si Debutto di Carnage Carneficina In cella con Eddie Brock Brock lascia un pezzo Di simbionte Che contagia Cletus Casedi Che diventa di fatto Il figlio Perché è come se Si fosse riprodotto Venom Quando aveva buttato fuori Il suo simbionte Figo Figo Veramente figa Carnage Completamente pazzo Tra l'altro le sue migliori storie Sono probabilmente quelle D'esordio Poi è andato un po' Un po' tanto calando Però Fighissimo Fighissimo E qua si prosegue Incazzati Contro Spider-Man E l'altra Volti generici Su Su roba Allora Quei volti generici Ragazzi È chiaramente One more day E questa In realtà è D Perché è davvero bruttina Non c'è Impeto Non c'è forza Nel lancio Cardiac Però Meditavo Sicuramente Mi ha preso la milza Certo 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 Cardiac E insomma Questa qua La metto in D Ma proprio perché Peggio Non posso Anzi In one more day Perché peggio Non posso Perché sono davvero Quattro facce Appiccicate Una sull'altra Veramente qua Mark Buggley Non aveva tempo Di fare la copertina Probabilmente Ce l'ha avuta A tempo Con Shocker Bellissimo Tra l'altro Quei raggi distruttivi Che fanno tremolare Tutto E di fianco Abbiamo il numero 365 Celebrato Perché erano I 30 anni Di Spider-Man 30 Anniversary Issues E mi piace Mi piace tanto Era olografica C'era su Spider-Man Che salvava Il tizio Della primissima copertina Quella di Amazing Fantasy Quello disegnato Da Romita Quindi tu facevi così E c'era lui che Salvava il tizio Sembra una cover Anni 70 All'altro 364 Sì 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 È vero Lì abbiamo Mark Buggley Davvero classicista Che Che sembra citare Le copertine corno Mancano I fumetti Shocker Non mi sconfiggerai Vediamo Assaggia queste Queste robe qua Però sì Il vintage Scorre potente Allora Allora Quella olografica Comunque Merita 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 E io Una A Vodo Dagliela Perché comunque È una citazione Tipo lui C'era molte citazioni A Superman All'epoca Stavo vedendo Sto notando adesso E L'uomo sabbia Che attacca Una bella C B È un po' troppo Una bella Ci sta Ci Ci sta Teschio rosso 1 Teschio rosso 2 Only the red skull Knows but He'd rather kill Than tell Preferisce uccidere Che dire La verità Verità che riguarda Probabilmente i genitori Di Peter Parker Che Sono tornati in auge Nel frattempo Quindi Per un po' Lui ha avuto Anche i genitori Ma hanno capito Che non potevano Tenere quella roba Quindi Li hanno eliminati Ma poi ci arriveremo Allora dunque Il doppio Allora Bruttarella Quella sulla destra Non mi piace troppo Ehm Carino Il doppio teschio Quindi red skull 1 e 2 Però Bah Allora io metterei Questa qua Bruttarella Indy Il teschio rosso Doppio Lo mettiamo in C Che è qua su Oh ok Scusate ma ogni tanto Si ribella Ok Amici Spine 368 369 Allora Nonostante ci sia Un plus De Green Goblin Green Goblin Non compare Abbiamo un uccello Di metallo I genitori di Peter Che sotto Guardano increduli Bugli Sempre bravo Però questa cover Mi sa un po' di poco Così mi sa ancora Un po' di poco Electro E quel robottone Che vola Io farei Li metterei Tranquillamente Uno in C Bruttine pure queste A parte l'Electro Si la pose La pose di Electro Non è male Però tutto il resto Infatti Electro Lo mettiamo Dai mettiamolo in C Mi sento buono Per via di tutto Quello che rappresenta Però Forse anche un po' meno Forse anche un po' meno 370 Torna lo scorpione Di nuovo Pugnazzo A Peter Che sta cadendo Con uno schifo Intorno Un serpente Oh mio dio E la gatta nera Ovviamente Sempre presente Così come è presente Contro lo scontro Del Nuovo Contro l'ammazzaragni Che vedete nel numero Successivo Il 371 Allora 370 Io ve lo dico Ragazzi La metto Senza infamia E senza lode Io direi Quindi facciamo Così Senza infamia Senza lode Io la metterei In C Questa roba qua Con lo Spider Slayer Dai Sempre C Mi sento buono Mi sento particolarmente buono Dai Non è male Lui che salta Dietro La gatta nera È uno di quei Freeze time Carini Carini Continua Spide Slayer Nell'ammazzaragni Stavolta abbiamo Feliciardi Gatta nera E Peter Intrappolati Dentro Una stanza Che è solo un muro E Parte degli ammazzaragni Dei robot ammazzaragni Che li inseguono Gli diamo Un B Perché come Composizione Mi piace La 373 È davvero bella Da S Non da Spider-Man Ma da S Cioè Spide Spide È talmente Stremato Talmente Distrutto Che Così Anche Metaforicamente Secondo me Viene proprio Aggrovigliato Vede tutto Come una Ragnatela Ecco Non è così Letterale Quindi Io metterei Lui In S Dai Come generica Di Spider-Man Ma Molto figa Now Un sale Twice a more Due volte al mese Usciva Per uscire a mettersi Un po' in paro Con le stestate Venom attacca Molto semplice Non li prende neanche Con le mani Li prende con i fili Del simbionte Molto figo Invece Quello Delle Trent'anni Di Anniversario Di Spider-Man Venom Allora Io farei Venom Generico C Venom Che si pesta Con Spidey B Questa Più o meno È la La mia scelta My choose Poi Copertine Bruttarelle Devo dire Una Vabbè Spider-Sense Senso di ragno Ma loro che arrivano Su quella specie Di skateboard Volante L'altro che Al piede La dietro Non si capisce Sembra che è arrivato A scavalcato Non lo so Più suggestivo Cardiac Che tenta di strozzare Spidey Però Però Bravo Bugley Allora io metterei Lui Di Lui 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 Lo mettiamo B Ce lo sentiamo Dai B Anche di più Però no Poi dopo c'è A S No B B Attenzione Ritorna Carnage Nella sua seconda apparizione La prima cosa che fa È voler uccidere tutti Vuole fare una carneficina Appunto Una carne Infatti Il titolo originale È Maximum Carnage Di questa saga Cioè Carneficina Al massimo Ecco Quindi abbiamo Completamente Perso di strada Cletus Casedi Che mena infatti Vedete Di Brock Tipo Tu sei l'unico Simbionte Ancora Blah 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 Poi abbiamo Sempre Maximum Carnage Che proseguiva Vedete 3 di 4 Là in alto 7 di 4 Perché Si dipanava anche Da altre parti La trama Dovevi leggere tutto Un po' Un po' Caotica Queste non mi sono piaciute Tanto Allora Questa Vabbè In realtà Ci le la do Poi questo No Scusate Perché Ah no Sì No Me l'ha invertita Infatti Perché abbiamo Ancora Spidey In Maximum Carnage Molto più classica Questa Quindi Facciamo così Me l'ha messa di qua Non capisco perché Questa biglia La diamo Diamoci Invece Al classico Hulk Spacca Con questo nuovo Look Che Bugley Gli dava spesso Cioè del banner Con il Il petto Gigante E le braccine Eccetera Un po' Più piccole Un po' Più Un tipo di Di animalesco Possiamo dire Per Hulk Io metterei Queste Allora Questa qua Che spaccano Tutto Di Questa La metterei In B Anzi in C Anzi in B Perché in C Ci va questa Amazing Spiderman 382 Vediamo ancora La roba che Esplode Del titolo E un Hulk Forse un po' Troppo esagerato Molto più figa Invece l'altra Dove Qualcuno Sta inseguendo Spide Gli spara Un po' Dappertutto Arriva La giuria Esatto La tribunale Della giuria La giuria Era questo Questo organo Che faceva leggi Ma faceva Le faceva anche rispettare Faceva tutto Dal creare una legge A farla rispettare Non lo so Entrambe Non mi convincono tantissimo Io metto Hulk In C Questo B Mi fido Mi fido Lui legato Non sono un assassino La giuria Cazzi e mazzi La giuria Che lo accerchia Nell'ultimo numero Bah Allora 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 Lui legato Lui legato Lo mettiamo C Loro che si menano B Ok Poi 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 Giuria Questa Mi ha sempre detto Poco Anche se erano Affascinanti Loro col casco Ma gli do Una D Ma Non ho perso Ok No no Infatti Mi ha messo alcune Me le ha messe Tremendamente avanti Anzi indietro Oh Bellissimo Questo avvoltoio Questo io gli do Una S Non iconico Non iconico Ma S Si è ribellato O si è un autoproclamato Iconico Questa Avvoltoio Ringiovanito Peter Parker Invecchiato Quello era il periodo in cui C'era questo siero Che ti faceva ringiovanire Quindi spider Me l'ha passato anche questo Avvoltoio giovane Poi non è rimasto giovane Carino Forse un po' spoiler Addirittura di quello Che succede dentro Però vabbè Carino Allora Ah qua Ok S per la voltoio L'avevo già fatto Scusate mi ero perso Della voltoio Che strozza Invece Io metto Un bel C Poi Special Double side Issues Siamo al 3 88 Muoiono I genitori Di Peter Parker Ma Si viene presso A scoprire Che non erano I propri genitori Ma Due cyborg Sofisticati A cui le aveva impiantato Ricordi falsi Ma davvero sofisticati Quasi dei sintezoidi Quasi Gente con gli organi Ma dentro È meccanica Sono morti Si scopre questa cosa Infatti nella seconda parte Come vedete Lui prende la tomba Va da Camaleonte Gli dice Adesso mi spieghi Che cosa mi hai fatto Se no le prendi Allora Lui che minaccia Ovviamente Così E così La morte Di genitori Per me Molto Molto Banale Shriek L'inizio Del dinamismo È la fine Un po' Di quella Che era L'epoca Più classica Allora Shriek Shriek E Insomma Sullo sfondo Così Il ritorno Di carrion Che ci riporta Un po' Di saga del clone In testa Io la metterei Genericamente In B Perché mi piace L'idea Di Lui sul tetto Loro che sovrastano La città Tipo minaccia Poi la Mercedes Shriek Shriek qua È più Molto Più generica Cioè Che attacca Da dietro Così No Non Dico no Quindi Mettiamo 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 Shriek Mi è 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 Partita No Questa c'è Ok Shriek Che attacca Dove sei? È scappata La copertina Di Shriek No Elder Ring Arriva Quando È giocabile Ottimamente Su PS5 Paro di cloro Ma Non capisco Ma c'è una Manca Shriek Shriek Che Che attacca Da sotto Ah è caduta In C Ma porca Non volevo Non volevo Io volevo Metterla Beh no Sì In realtà L'avrei messa In C Sì L'avrei messa In C Ok Ok Oh Attenzione Citazione Classica Super Classica In the Aftermath Of Tragedy Peter Parker No More Perché qua Si sente Odore Di clone Si sente Odore Di clone Giusto Per Allora Questa è una citazione Ovviamente La copertina storica Di lui Che voleva Abbandonare Spider E questa volta È Peter Che dice Tra virgalette Non posso più Essere Peter Ma voglio essere Voglio essere Solo il ragno Questo è di Bugley Però Eh Queste sono Tutte di Bugley Mark Bugley Agli inizi Quindi con il suo Magrume Dei personaggi Allora Questa è molto Figa Ma Troppo Citazionistica Cioè Non possiamo Buttarla Troppo in alto Bella l'idea Però io starei Dalle Parti Della B Non esageriamo Non è neanche Realizzata così bene Rispetto a Quella che Citava Action Comics Numero 1 Se volete a Bugley Mi piace pure Meno di Lars No Bugley Io lo adoro Questo era il Bugley Della prima ora Forse un po' Acerbo Ma Bugley Mi piace tantissimo Però Meno In questa generica Cover Con Questo Vento Strano Con Spide Inginocchiato Con Carrion Con questo costume Diverso E Con Shriek Che veramente Sembra Gem Delle hologram Quindi io Metterei Questa cover In realtà In D Bruttarella Bruttarella E Attenzione Arriva Judas Traveler Un personaggio Che non ha una storia Judas Traveler È Un Cretino Mutante Che pensava di essere Molto più potente Perché Gli ideatori Della saga del clone Non sapevano Che ruolo Dagli Sembrava uno Che sapeva tutto Che sapeva L'identità di Peter L'identità Del ragno Insomma Del ragno rosso Quindi di Ben Reilly Cioè Sembrava uno Che aveva Le idee chiare Cioè Era uno che era Sopra A tutto E in realtà Poi era un semplice Pazzo Mitomane Proprio perché Era troppo potente Evidentemente Quindi hanno deciso Di Non sapendone cosa fare Di Di sbarazzarsene Questa cover Non è neanche malaccio Sconfitto da Traveler Anche se Non mi piace molto La composizione Vediamo che c'è Ben Reilly Dietro Che nel frattempo È arrivato Numero Antelitteram Allora Io lo metterei In C Perché comunque Non è disgustosa Non siamo Nell'Adi Nell'One More Day E poi Il ritorno Del Puma In una delle cover Numero Antelitteram Esatto Non so come Se un personaggio Ti faccio credere Che è chissà chi Poi in realtà Era un cartino A caso Esatto Questa è un po' La sua Così Il suo modo Di scrivere Il Puma Il Puma Che torna Devo dire Questa non è bellissima Qui Bagley L'ha fatti Molto generici Nella posa In questo cielo Giallo Neanche un po' Di colore Di Adieu Di Attenzione Abbiamo Dardevil Dardevil Che Qui ha Un costume Veramente Anni 90 Potenti Cioè del tipo Dio mio No Non mi piace Qua Bagley Anche il Bagley Di quella dopo Santo cielo Cos'è successo A Questa Questa povera donna Tra l'altro Che È la Una fan Di 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 Tutto l'Octopus Cioè è una Una sua Una specie di Grupi Di Dr.Octopus Che si chiama Stunner Che tra l'altro Prima era Obesa Ma Dr.Octopus Gli dà un corpo Da supermodella Che Bagley Disegna però in maniera Veramente Indecente Io queste Le butto Una in D E Stunner Addirittura In One More Day Ciao proprio Negli inferi Mi dispiace Signorina Stunner Nonostante ciò Noi siamo ancora Persi Stunner Esattamente Sì beh Ma è ovvio A noi piace Un po' Soffrire Roberto Eh 398 399 Allora Io metto In A The Jackal Reborn Non ho paura Di farlo Perché abbiamo I due Spider-Man Stavolta Uno con l'identità Del Ragno Rosso E l'altro Il nostro Peter E rinasce Lo sciacallo Stavolta Sciacallo davvero Quindi non è un costume Ma ha le orecchie Un po' lupine Un po' Insomma Il colore verdastro Stavolta c'è la lui E E E loro due si confrontano Nel laboratorio Dello sciacallo Ed è È un po' L'inizio Della Della saga del clone Cioè siamo proprio All'inizio Della saga del clone E Era comunque Una cover della madonna Secondo me Cioè proprio Peter così Un gran bugley Un gran bugley Un po' meno interessante Ma non brutta È questo scontro Con Il dottor Octopus Ehm Con Peter Di spalle E Oc un po' Laterale Si dovrebbero Starsi Cioè dovrebbero stare Scontrandosi Ma Non è che lo Sembri tantissimo Però non è brutta Non è brutta Io ho una B Che la do Volentieri E attenzione Perché arriviamo al numero 400 Che qua Ci viene mostrato Come Dal vivo Con una foto dal vivo Ma Io ho Trovato e messo La foto Un po' Quella fatta Un po' Meglio Diciamo Che ora vi mostro Tra l'altro E Vado a Prendervela Qua Perché Merita Di essere vista Anche un attimo Ok 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 Eccola qua Mese di Spider-Man 400 Una morte In famiglia Da non confondere Con morte Della famiglia Che veniva venduta O così Normale Quindi con la lapide E Il ragno Disegnato O come vedete qua In versione Veramente Tomba Cioè Come se fosse un'incisione Con questo tocco Che sembrava quasi Marmoreo E avevano fatto Cos'è di plasticaccia Una roba Una roba molto cheap Anni anni 90 Ma Fascinosa Proprio perché viene da quegli anni Completamente disperati Che brutta idea Allora Sì Diciamo che Probabilmente I primi 5 minuti Toccandola Dicevi Wow Sto toccando La lapide Di chi Poi tra l'altro Di zia Mei Perché era lei Che moriva Per anni dopo Scoprire che Quella morta In realtà Era un'attrice Geneticamente Modificata Con Però con Con i ricordi Falsi Quindi lei pensava Di essere davvero Zia Mei Allora Vediamo le variant Perché a volte Le indicano Qua sotto Però vedo Che mi indica Forse variant Teso come Foto variant Perché la vedo Identica Pure questa The gift white Ok questa è quella Biancastra Marmo bianco Deluxe Dai cat Ok Quindi Probabilmente con Non lo so Sembrano tipo Delle artigliate Sopra E questa è quella Diciamo normale Non lo so Sicuramente poi c'è la variant Quella che vi ho fatto Vedere io Quella più classica Che Effettivamente Cioè Avrei preferito Quindi Andiamo a Vedercela Ora Non è che sia Stacco Verona Gli diamo una L'idea di fare Una finta Lapide È comunque In qualche modo Entrata nella storia Però Si sono state Copertine Celebrative Secondo me Un po' più carine Però A voglio Dargliela Perché comunque C'era questa cosa Del non mostrare Chi potrebbe morire Metterci Spiderman Sopra Anche se tutti Sapevano che Non sarebbe mai Potuto morire Anche se eravamo Nel periodo del clone Quindi Magari Stavolta Peter Ci lascia Invece no Poi alla fine È stata zia May E poi non era Nemmeno lei Era una poveraccia Fra l'altro Che ha fatto una fine Orrenda E credo Non Oddio si È morta di morte naturale Cioè Non lo so Però È stata sfruttata Ed ha fatto una finaccia Ma nessuno ogni tanto Va a metterle dei fiori Sulla tomba Perché non credo Che lo faccia Non credo che lo faccia Peter Ok Quindi la 400 Gli diamo una A Per amore Pronti Tra l'altro Per proseguire Con il 401 La prossima volta Perché ovviamente Non ci fermiamo E anzi Prossima volta 401 500 E lì ne vedremo Ancora delle più belle Un po' perché ci sarà Tutta la saga del clone Adesso ne abbiamo visto Le avvisaglie Ma ci sarà Tutta la saga del clone E poi si arriverà In realtà Agli anni 2000 Gli anni 2000 Prima di quella Che poi Dal 500 in poi Se non sbaglio Comunque È la terza era Diciamo Delle copertine Cioè quella proprio Dove più generiche Non si può Dove spesso Le cover Non raccontano niente Neanche della storia All'interno E sono quelle Che odio Un po' Di più Come sempre La Marvel Che prova a cambiare Tutto Per non cambiare Niente Esatto Cioè la Marvel Ha proprio Ha proprio questa E questa è la base Esatto Dei superiorei Marvel Proviamo a cambiare Anzi cambiamo tutto Affinché nulla cambi È proprio la base La base Della Marvel Quindi mi raccomando Restate sintonizzati Perché La prossima Settimana Faremo la tier list Delle cover Da 401 a 500 Quindi Veramente Veramente Alla grande Mi raccomando